Musica Provinevamo da molti mondi diversi, però legati all'associazionismo cattolico, quali di scout, azione cattolica. Abbiamo vissuto un'esperienza molto intensa e molto significativa presso la Caritas, che comunque ci ha insegnato che oltre a gestire il bisogno bisogna cercare di rimuovere le cause del bisogno e quindi da questa nostra grande motivazione è data l'idea di creare un'impresa di lavoro, un'impresa cooperativa. La cooperativa per me ha significato tutto perché mi sono trovato benissimo tanto nel lavoro come nella relazione interpersonale. Mi hanno dato una mano per poter portare la mia famiglia che era rimasta nell'Equor. Ho potuto portare la mia figlia, la mia moglie qui e dopo è nata anche un'altra figlia qui in Italia. Sono riuscito a fare anche la cittadinanza, un paio d'anni che abbiamo la cittadinanza italiana. Io lavoro in cooperativa ormai da 19 anni, vengo da un percorso un po' difficile che ho avuto qualche problema prima di conoscere la formica. Inizialmente per me era solo un'opportunità di lavoro, poi pian piano conoscendo la formica ho capito anche qual è l'importanza della cooperazione e del dare l'aiuto a chi ne ha bisogno. Sono diventato anche socio di questa cooperativa, quindi partecipiamo e decidiamo con il nostro voto anche a tutte le decisioni. quindi pian piano ho acquistato anche la consapevolezza che non sono un numero ma sono una persona che conta e che può dare il suo contributo all'interno della cooperativa.